Salve a tutti e bentrovati. Dopo le due ultime sedute rialziste, le piazze europee tornano a scendere sui timori dei rincari di gas e petrolio, mentre si studiano nuove strade per ridurre la dipendenza dalla Russia. Il Fuzimib, come vediamo, lascia i 24.500 registrati in apertura con un trend discendente che si posiziona sui 24.300. Il calo sfiora il meno 1%. È andata peggio a Francoforte, con infatti il DAX sul finale cede quasi un punto e mezzo. Avvio con prevalenza di vendite anche a Wall Street, dove il Nasdaq, dopo una partenza favorevole, è passato in territorio negativo, mentre Dow Jones sta viaggiando intorno al meno 0,80% in area 34.500. Nonostante la forte crescita di ricari e utili nell'arco del 2021, era affinito per perdere oltre 3 punti e mezzo percentuali. Male anche un'altra utility, Italgas, che ha perso il 2,73. In mezzo fra questi due titoli si posiziona Unicredit, che dunque si allontana ancora di più dalla soglia dei 10 euro per azione. Un altro bancario, come intesa, sfiora i due punti e mezzo percentuali invece di poco superata da Buzzi Unice. Vuole invece Saipem grazie anche ai possibili sviluppi sulla ricapitalizzazione della società. A proposito di petroliferi, sale anche Tenaris in una giornata di nuovi rialzi per il greggio. A spingere Leonardo è la notizia di una cessione aziendale negli Stati Uniti e una nuova commessa in Quatar. Interpampa è l'unico altro titolo a superare il più 1. Eni chiude invece a più 0,90. Contrastante l'andamento della moneta unica. Nei confronti del dollaro, per esempio, perde terreno pur mantenendosi sopra quota 1,10. Praticamente stabile l'euro yen, mentre l'euro sterlina riesce in parte a guadagnare terreno. L'appuntamento di oggi si chiude con l'intervista a Pietro Di Lorenzo. Ospite di oggi delle interviste di Traderlink, Pietro Di Lorenzo, ideatore di SOS Trader, oltre che degli eventi investing. Allora, settimana molto particolare. Cosa c'è da suggerire per chi ci sta guardando? Sì, buongiorno a tutti, anzitutto grazie per l'invito. La particolarità di questa settimana è la seguente. Il mercato ha perso di volumi e di volatilità, quindi i grossi strappi di prezzo a cui abbiamo assistito nella scorsa settimana, ti sto mostrando il Fib su base giornaliera, in qualche modo si stanno riducendo. Dobbiamo immaginare una sorta di tira alla fune, no? All'inizio ci sono stati grossi scossoni dopo la guerra in particolare e adesso stiamo andando in consolidamento. Quindi sedute con range più ridotti e soprattutto da lunedì volumi in contrazione. Il tema però qual è? Che nelle ultime otto sedute, scusa quella di oggi che chiaramente è in sviluppo e quindi non possiamo fare ancora un bilancio, otto, sette delle ultime otto si sono chiusi in positivo e quindi c'è questa intenzione forte degli operatori di rimbalzare, quindi di provare a, come dire, consolidare sopra questi 21.000 punti che sono stati il supporto che si è opposto alla discesa dei prezzi. Oggi per la prima volta in apertura vediamo qualche vendita in più che è del tutto legittima, a mio parere, nel senso che dopo un rialzo così deciso può essere anche sano un consolidamento del genere e quindi un mercato che entra per certi versi in una fase più ordinaria. Abbiamo vissuto al 24 febbraio in poi una fase straordinaria, se in termini di volumi e della volatilità, è come se ci sia una sorta di assuefazione a questo conflitto e in ogni caso il mercato si immagina che, insomma, sta almeno scommettendo per il momento che non ci dovrebbero essere diciamo ulteriori sviluppi e coinvolgimenti di altri paesi nato, se no vedremo ben altri andamenti. Così come il mercato sembra piuttosto assuefatto anche alla condizione di rialzo dei tassi piuttosto brutale, inteso come rapida, da parte della Federa Reserva, quindi non assistiamo a veloci vendite quando ci sono delle esternazioni dei diversi presidenti della Fed che in qualche modo annunciano un rapido incremento dei tassi nel corso del 2022 negli Stati Uniti e quindi è un mercato che si sta stabilizzando, sta consolidando e nel quale comunque ci possono essere delle interessanti opportunità. In questo caso meno con una logica di trading, perché come dicevo la volatilità si è un po' ridotta, ma più con una logica di strategica, quindi adesso possiamo rientrare probabilmente una modalità più ordinaria di fare i trading, quindi incrementando leggermente le sides che erano state diminuite nel post-guerra e pensando anche una serie di acquisti scalettati, quindi prima andavamo più rigidi su ingressi uscite ben lucidi ex-arte perché bisogna evitare di trovarsi contro il mercato, adesso possiamo negoziare in maniera un po' più ordinaria. Detto ciò, le notizie e le sorprese sono sempre dietro l'angolo, soprattutto su mercati in una fase giopoli di rossi delicate, quindi bisogna ancora una volta essere pronti a di nuovo switchare sulla modalità operativa diversa, qualora arrivano notizie speriamo spiegabilmente positive che non c'è stato il fuoco, magari che potrebbero diciamo di nuovo dare un nuovo input operativo al mercato. Quindi per ora andiamo in questa modalità, ma navichiamo a vista. Perfetto Pietro, io ti ringrazio per le informazioni e con te rimando l'appuntamento la prossima settimana. Ringrazio Pietro e Russana, grazie a voi per averci seguito e continuate a rimanere aggiornati sui nostri contenuti sul canale YouTube di Traderlink, sulla nostra app e su Traderlink Cloud. Non mi resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento. A domani, arrivederci.